buongiorno il primo maggio vedo tutto il pd a voce unificata che racconta che bisogna alzare gli stipendi sala orlando ma ci vogliono prendere in giro forse non sono gli stessi che hanno sempre tifato per il mondo globalizzato mondo senza tariffe senza dazi per l'euro forse non vi hanno spiegato che il mondo globalizzato quello che vi ha messo in concorrenza con tutti quelli che in giro per il mondo avevano uno stipendio più basso del vostro forse non vi hanno raccontato che l'euro impedisce di recuperare l'inflazione quella che adesso vi sta rubando il potere d'acquisto perché mio padre lavorava la pirelli a milano la concorrente della pirelli era la continental tedesca c'era l'inflazione negli anni 70 perché c'era la crisi petrolifera cosa succedeva lo stipendio di mio padre colpito dall'inflazione aumentava e aumentava perché c'era una cosa che si chiamava scala mobile la pirelli forse falliva perché aumentava gli stipendi no non falliva perché se il suo concorrente vale a dire se la continental non le aumentava anche lui gli stipendi il marco tedesco saliva e quindi le gomme tedesche costavano di più di quelle italiane mio padre non aveva nessuna paura di perdere il posto di lavoro quindi quei signori che invece ci hanno messo in un sistema dove questa cosa non si può più fare perché se in questo momento il datore di lavoro italiano aumenta gli stipendi diventa poco competitivo con gli altri sono gli stessi che vi dicono che si devono aumentare gli stipendi come si devono aumentare qui vi aspettiamo e qui invece sarà il prossimo argomento di cui parleremo a lungo